Buongiorno e benvenuti nella segna stampa di oggi, giovedì 17 luglio, 13 luglio. Vediamo quali sono le notizie più importanti oggi sui giornali. Innanzitutto i giornali sono molto appassionati, quello che forse lo scrive meglio è Marcello Zacche, dalla presentazione del libro ieri di Matteo Renzi e dal relativo battibecco che ne è nato. Quindi non solo abbiamo avuto l'anticipazione a stampa unificata, ma poi le dichiarazioni di ieri di Renzi alla presentazione al Maxi di Roma, di Giovanna Melandri, del suo libro, ha creato tutte le ripercussioni che oggi troveremo sui giornali, in particolare la polemica con Letta. Io la cosa la farei molto breve perché di interesse pari a zero, perché riguarda il passato e non il futuro, riguarda Renzi e non quello che succederà domani, ci sono le ritroscena sui nuovi comunicatori, mi sembra che ci sia un... cioè sono tutte pippe che si cuscinano i giornalisti a loro fine, di cui interessa poco. Letta dice che è uno psicopatico, quell'altro dice che Letta è uno che piagnucola e fai la vittima perché gli ha tolto Palazzo Chigi, me ne fotte nulla. Più interessante è il pezzo di Marcello Zacche, in cui in realtà Marcello Zacche tira fuori un parallelo, cioè mentre Renzi era al Maxi dicendo che Banca Italia aveva vigilato male, dall'altra parte Banca Italia era alla riunione dell'Abi e diceva che probabilmente, titolo del sole 24 ore, il peggio è passato e le sofferenze, gli NPL scenderanno sotto livelli dissipati, i rischi di sistema, come titola oggi il sole 24 ore. Zacche mette insieme le due cose, dice da uno... in realtà coglie forse l'unica cosa interessante che non è tanto la lotta politica, ma è il fatto che obiettivamente Banca Italia non può fare il fenomeno, cioè Banca Italia non è che può fare il fenomeno, è colpa di Renzi, è colpa delle banche, è colpa di Veneti, chiunque abbia avuto a che fare con Banca Italia sa che questi burocrati strapagati di Banca Italia, ben venga che siano strapagati, però quando entrano in una banca gli fanno un culo così, come non si siano resi conto di quello che stava avvenendo non lo so. Il titolo del sole 24 ore di oggi, dissipati i rischi di sistema, l'avrò letto altre 100 volte, eppure le altre 100 volte non era vero, spero sia vero questo, non perché sia falso quello che scrive il sole 24 ore, ma perché Banca d'Italia e i regolatori ci raccontano sempre una realtà che poi alla fine dei fatti non si verifica. Va bene? Perfetto. L'altro grande tema della giornata sono i migranti, e qui io però una piccola parentesi la voglio fare, ragazzi. Se voi avete sentito la zuppa di porno nelle ultime settimane, e avete magari letto il mio pezzo di oggi sul giornale, che fa una cronistoria di quello che la sinistra ha detto delle ONG, quello che diceva dell'accoglienza e delle manifestazioni, e come si è smentita, beh, insomma, se avete letto i giornali nelle ultime settimane, vi siete resi conto che i giornali lasciavano aperta la chance che l'Europa, frontex, non frontex, vertice di Varsavia, trilaterale, potesse aprire i porti per aiutare l'Italia quando c'era l'emergenza dei clandestini. Ma io dico una cosa molto semplice, ma se voi vi togliete i paraocchi di gente che vive soltanto in una redazione di un giornale che non capisce nulla, nulla, voi pensate che un politico europeo si prende la responsabilità di aprire un porto a decine di migliaia di migranti, voi pensate che ci sia un cazzo di politico europeo che si possa prendere questa responsabilità? Dovete proprio fare i giornalisti per crederci, cioè dovete proprio stare chiusi nella vostra bottega. Ma voi lo sapete cosa avviene in Spagna a Ceuta? Sparano, c'è il filo spinato, se non siete chiusi dal pregiudizio del politicamente corretto delle vostre redazioncine, e lo dico non per noi, perché Libero, Giornale e La Verità queste cose hanno scritto cento volte, sapete perfettamente che lì sparano agli immigrati che vogliono venire. Zapatero affondava i barconi mentre i nostri giornalisti facevano il pietismo sull'accoglienza e stavano tutti contenti della manifestazione di Beppe Sala qua a Milano. È chiaro, ma come vi viene in mente che la Francia possa accogliere che sono mesi che ci rimanda indietro i migranti da 20 miglia? Perché è arrivato Macron, il nostro nuovo mito. Insomma, quello che è certo è che l'Europa per l'ennesima volta ha detto Ciao ragazzi, i porti sono i vostri, avete firmato Triton, Triton, come cavolo si chiama, e ve li tenete voi. Altra cosa messa in evidenza oggi dall'avvenire in maniera polemica, da messaggero o meno in maniera polemica, le nuove regole sull'ONG. Anche qui, cavolo, mi sembra veramente da ridere. Leggete quello che scrivo oggi perché ci sono le date di quanto difendevano le ONG, tutti quelli, il giornalista unico. Le ONG fanno un lavoro sporco perché non si vanno sotto costa a salvare gli immigrati, perché quello fa sì che si attirino gli immigrati. L'avremmo detto cento volte, cento volte. Oggi sembra che ci sia questo nuovo regolamento per cui l'avvenire piagnucola, il messaggero invece in maniera di cronaca molto secca lo spiega, e cioè che ci saranno dei poliziotti a bordo delle ONG, finalmente, e che non si possono più tenere contatti con gli scavisti. Cioè ci vuole una regola perché dica che non si possono tenere i contatti con gli scavisti. Beh, io non lo so. È una cosa incredibile, quindi fino a ieri si poteva. L'Italia è un paese strano e stalvolta, sempre nell'idea del giornalista unico, noi siamo quelli che scriviamo, bisogna abolire le province, bisogna abolire le auto blu, minchiate. C'è un sindaco che mi ha scritto recentemente proprio qua su Facebook dicendo nel mio paesino, non mi ricordo purtroppo quale sia, nel mio paesino Repubblica ha detto che c'erano tre auto blu e quattro autisti, nel mio paese ci sono tre dipendenti comunali, neanche un'auto blu e ovviamente nessun autista. Ma ovviamente Repubblica l'ha detto l'aumento delle auto blu. Beh, oggi io leggo che l'Italia brucia, lo leggo ovunque. Sapete cosa penso io? Che è un po' la colpa dell'Italia che brucia. Certamente il clima, certamente il cambiamento climatico, certamente Trump, tutte queste stronzate. Volete che ve lo dica? Ma non l'ho letto molto nei giornali. Un po' è anche colpa, un po' è anche colpa dei cittadini di quelle aree perché non le tengono sufficientemente bene, perché ci sono degli abusivi che sono contenti, come si è scritto oggi sui giornali, che vadano a fuoco, perché si buttano le cicche a terra, perché c'è un'educazione civica inferiore rispetto a quelle di aree che sono un po' più attette. Poi ovviamente è un casino il fatto che non ci sia la pioggia, quindi non è solo colpa loro, ma c'è anche colpa loro. Invece di dire questo, sapete di chi è la colpa? Scopro oggi sul fatto è della Madia. La Madia ha tante colpe, io non so neanche perché faccio il ministro la Madia, però adesso che la colpa sia della Madia perché è riuscita a fare, non solo lei, ma il governo passato, l'unificazione dell'inutile corpo forestale italiano con i carabinieri, ecco, questo ha fatto sì secondo il fatto che non si elevassero in volo gli elicotteri e perciò il fatto cosa dice? Dice che dopo lo smembramento della forestale l'Italia va a fuoco perché gli elicotteri non si alzano in volo per colpa dello smembramento della forestale. Ma vi rendete conto? Certo, ci saranno stati dei problemi, ma noi non facciamo nulla, non riduciamo i cosiddetti sprechi, no, abbiamo 100 corpi di polizia, attacchiamo i 100 corpi di polizia, quando si vogliono unificare, beh, quando sono stati unificati diciamo che l'Italia va a fuoco perché l'unificazione ha portato allo smembramento della forestale. Io la smembrerei altre 8 volte, ditemi voi a che cosa è servita fino ad oggi se non avere il comandante, la caserma, il direttore, il dirigente, bene hanno fatto a smembrarla e non penso che sia colpa di questo smembramento il fatto che oggi l'Italia vada a fuoco come tutte le state in cui non piove. Avanti c'è rasa sul foglio, apprezzo il suo pezzo, in cui dice il Movimento 5 Stelle è divertente, getta la maschera, sostanzialmente è la foglia di fico del partito dei magistrati. L'ultima scusa è l'intervista fatta ieri alla stampa da Lino Di Matteo, il procuratore della trattativa Stato-Mafia che ha detto più o meno esplicitamente che non esclude il suo coinvolgimento in politica. La storia dei gatti, qualcuno me la sta dicendo qua in chat, non è vera. Chat, gatti vivi che sono stati mandati ad appiccare il fuoco. Pare che non sia vera, almeno così ho letto la pineta del mio paesino completamente scomparsa, dice Ritta, insomma ci sono tante testimonianze di persone che soffrono di questa cosa ma non si risolvono queste cose dando sempre comunque la colpa alla politica. no? Alla politica, è sempre colpa della politica. Sì, ci vogliono pene più forti, ci vuole forse anche un po' di controllo del territorio più forte. Due cose che vi voglio segnalare che mi fanno venire il sangue alla testa, il primo è, mi sembra che sia sul Libero, è una storia incredibile, e cioè che i soldi dei terremotati sono stati fatti per fare delle piste ciclabili. Perché le piste ciclabili sono verdi, le piste ciclabili sono in, le piste ciclabili sono cool. Io ho visto in Sardegna delle piste ciclabili in piccole frazioni di paese vicino ad Alghero, in cui c'è una pista ciclabile in questi paesi di mille abitanti che poi si ferma. Perché? Perché si deve dire che c'è la ciclabilità, la bicicletta è fica, ma andate a quel paese, fate le strade, mettete a posto le strade invece di fare le piste ciclabili, mettete in ordine le case dei paesi terremotati invece di fare questa minchiata delle piste ciclabili. E' quello che mi viene da dire leggendo questo pezzo. Secondo pezzo, ovviamente questo ti daranno del fascista come si usa dare oggi, anche se la cosa di Fiano è scandalosa, come viene considerato Fiano, e la battuta di un parlamentare sulle sopracciglie di Fiano è scandalosa. Ma vado avanti sulla questione di ipotesi del fascismo, diciamo ideologico, è su questo Rom che a 18 anni uccide un vigile urbano in maniera volontaria, si becca a 9 anni e 3 mesi o 6 mesi di carcere, dopo 5 anni, cioè oggi a 23 anni, è fuori. Non va bene, non va bene, non va bene. Se tu ammessi un vigile urbano dopo 5 anni non puoi essere fuori ai lavori sociali. Non è possibile, non è possibile. E' una cosa che ti fa incazzare come una bestia. Non è possibile che questo ragazzo Rom, che sia Rom, che sia bianco, che sia giallo, che sia verde, si uccide una persona in maniera volontaria, si becchi solo 9 anni, non me ne fotte nulla delle attenuanti, è un paese in cui uno perde fiducia nella giustizia. Cioè avete rotto le scatole sugli evasori fiscali, sulla corruzione, fate delle leggi per cui se uno è corrotto perché si fa dare la mazzetta da 1000 euro va a 100 anni in galera. E se un Rom ammazza un vigile urbano dopo 5 anni è fuori. Ma di che stiamo parlando? Ma come si può immaginare? Ha tolto la vita a una persona. Non ha rubato dei soldi, ha tolto la vita a una persona. E' una cosa che mi fa impazzire. Oggi il giornale è libero, ne parlano. Ultima battuta la fa Libero sulla presentazione dei paninsesti di Cairo. Volta pagina, Cairo scrive oggi Libero, la preferisce rossa. La battuta è sul fatto che Cairo avrebbe ingaggiato soltanto personaggi rossi tipo Zoro, Nanni Moretti, Guzzanti, anche se Corrado Guzzanti tutto mi sembra che rosso. Anzi, Corrado Guzzanti è uno che fa ridere tutti indipendentemente dalla politica. Ma una ragione c'è. Il direttore nuovo preso da Cairo, questo Salerno, è come posso dirvi? Prendete il radical chic di Capalbio, quello che ha la nave dell'accoglienza ma non vuole gli immigrati. Prendete l'ultima spiaggia, quella che ha la barriera per non vedere i poveracci che stanno sulla destra e sulla sinistra perché all'ultima spiaggia ci sono solo loro, i dipendenti della Rai, Salerno, quelli chic che ce l'hanno con gente come me. Ecco, questa è diventata la 7, giustamente la Rai 3, ma degli anni 90 proiettata nel 2010 in cui, devo dirvi la verità, i radical chic fanno schifo quasi anche a loro stessi. Ciao ragazzi, Maria Grazia Bielli ancora oggi non parli di Torino, mi deludi, me ne fotto di deludere, io non so di che cosa vuoi parlare, questi che mi guardano e mi dicono mi deludi, che pensano che ci sia un complotto, che io non voglia parlare di qualche cosa, mi avete rotto, io parlo di quello che mi pare, mi so dimenticato Torino, non so cosa devo dire di Torino, forse non ho parlato neanche di Canicattì, sai che cosa? Non ho parlato di Canicattì oggi, perché invece la cosa fondamentale è quella che volete voi di Torino, non so cosa sia Torino, caro mia follower, ti ho deluso, ciao, vi ho deluso, ciao ciao.